E' terminata la più lunga giornata per Nusco, quella che ha visto l'ultimo addio della comunità nuscana al suo cittadino più eminente, Ciriaco De Mita. La portata storica dell'ex presidente del Consiglio è stata tangibile in queste ultime 48 ore, che sono iniziate col suo decesso nella casa di cura Villa dei Pini, giovedì mattina alle 6.40. Anche per chi come i più giovani non sono mai stati in contatto con Ciriaco De Mita e la sua storia, è stato lampante il significato che De Mita ha avuto in questi lunghi anni di percorso politico, una forza storica segnata dalla partecipazione alle sequie avvenute nella cattedrale di Sant'Amato nella piazza di Nusco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atterrato con l'elicottero puntuale come da cerimoniale alle 18.05 sul manto del campo sportivo del comune Altirpino ed accolto in piazza dal governatore della campagna Vincenzo De Luca. Mattarella, in compagnia della figlia del ministro degli esteri Luigi De Maio, ha salutato la vedova De Mita, Anna Maria Scarinzi, poi ha preso posto in attesa della funzione religiosa. Il feretro di Ciriaco De Mita, partito dalla villa di famiglia, è arrivato tra gli applausi dei suoi concittadini e di tutte le centinaia di persone che hanno raggiunto il piccolo comune per dare il loro tributo a quello che è stato definito l'ultimo pezzo della Prima Repubblica. Sulla bara, la fascia tricolore da sindaco che De Mita ha indossato per due mandati. All'esterno di piazza Natale, un maxischermo per dare la possibilità di seguire la funzione anche da fuori la chiesa, che ovviamente, per motivi di sicurezza, data la presenza del presidente della Repubblica, è stata aperta solo alle cariche istituzionali e dalla famiglia. A ufficiare la cerimonia funebre, il vescovo di Lacedonia, Nusco Bisaccia, Monsignor Cascio e il parroco di Nusco Dondino Tisato. Tantissime le cariche politiche del passato e del presente che hanno raggiunto il comune irpino, tantissime le istituzioni che hanno reso il loro tributo all'uomo, al politico. Tra i primi arrivare Pino Rosato, cardiologo e suo medico personale, che gli è stato vicino fino all'ultimo respiro. Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, il procuratore di Avellino, Domenico Ayroma, tra le fasce tricolori il sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D'Agostino, Vito Pelosi, sindaco di Serino e Clemente Mastella, sindaco di Benevento. Da Roma i vertici istituzionali, il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, Angelino Alfano, ex ministro della Giustizia, Gerardo Bianco, ex ministro della Pubblica Istruzione, il parlamentare Pierferdinando Casini, il presidente Nicola Mancino con la moglie Gianna, Marco Follini, ex vicepresidente del Consiglio, Ortenzio Zecchino, ex ministro dell'Università e della Ricerca, rappresentanti anche del mondo sportivo come il DS dell'Avellino Calcio, Enzo De Vito. Ha sempre servito il popolo, le parole di Monsignor Cascio, lo stesso popolo che gli ha dato il suo ultimo abbraccio.